I consumi, secondo l'Istat, superano i redditi dichiarati del 14% a livello nazionale e nella marca questa percentuale potrebbe arrivare tranquillamente al 20%. Parola dei sindacati, CGL e Cisle Will impegnati unitariamente nella contrattazione sociale 2018 con comuni e denti che operano nel territorio, da quelli che erogano servizi all'azienda sociosanitaria. Il dato, secondo la CGL la dice lunga, sull'evasione fiscale ancora da scovare che priva di risorse vitali chi ne ha bisogno. Abbiamo visto che ci sono molte risorse nascoste e molte risorse sprecate. Quando solo il 3% dichiara più di 75 mila euro lordi vuol dire che c'è qualcuno che non è onesto fino in fondo. Questo toglie la possibilità di destinare servizi ai soggetti più deboli, a chi ha bisogno di interventi sociali per se stesso o per la propria famiglia. Lotta all'evasione per garantire una fiscalità equa nei comuni anche in vista dello sblocco delle aliquote IRPEF. L'invito è quello di non aumentarle fino ai livelli massimi. Per la prima volta nel 2018 i sindacati hanno avuto confronti con tutti e 95 i municipi della marca. È un lavoro continuo quello della contrattazione sociale. Siamo riusciti a raggiungere risultati importanti nel 2018, concreti per i cittadini. Ci proponiamo di rilanciare la nostra azione nel 2019 in continuità col passato, ma su temi come fisco, welfare, tutto l'ambito dell'anziano, ma come quello della famiglia e dei lavoratori genitori. Sono temi che interrogano i comuni e sui quali noi vogliamo interloquire per riuscire a dare migliori servizi e elementi di sviluppo positivi al territorio. Anziani e famiglia. La CISL lancia la proposta di un piano regolatore del sociale che affronti anche il mutare della rete di sostegno parentale, un tema sempre più pressante. I sindacati si preparano a mobilitarsi per chiedere pari condizioni di deducibilità delle rette delle case di riposo. Quanto al contrasto della povertà spicca un dato a livello provinciale relativo al reddito di inclusione. Le domande a fine agosto accolte dai comuni erano poco più di 200, quindi un chiarimento quando si parla di reddito di cittadinanza, ma è proprio quello che ci serve, perché i numeri dei beneficiari ci fanno presumere che probabilmente non riguarda questo il nostro territorio trevigiano e probabilmente neanche il Veneto.